ciao a tutti sono ande dei due giocatori cavalli in compagnia di player il me che fao albergo hello e questo cameo è di ciao ande queste 105 sta 105 sta di ciao youtube oh che cazzo oh scusate no 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 ma va bene così ciao ragazzi vi presento 105 se l'avete già visto in qualche video di killing floor sei in compagnia di snake player andy e lorex comunque signor 100 oh mio dio ciao a cosa stai giocando eh controlla controlla stai giocando a killing floor mi sparo un po ok no no ti avrei chiamato ok oh stai giocando a daliensworn yes eh si madonna ti ricordi i ricordi i ricordi in cui tu continuavi ad essere pro continuavo al passato ecco si adesso continui a fare schifo no ma hanno preso e a fare uccidere player cura l'olorex ha curato me me son messo davanti ha curato me no malissimo malissimo scusami player non si possono tipo aspettare eh esatto eh mi sa di no non credo no non puoi mi sa eh bbb mi dispiace eh non è giusto eh non è giusto no scusate se mi intrometto ma sti cazzo ma che cazzo te ne fai oh non è che dobbiamo non è che dobbiamo fare cose eh raga ricordiamo a chiunque ci sta sentendo che il nostro server di team speak è protetto da password quindi non potete entrare comunque quindi che cazzo volete cioè veramente tranne che per me tranne che per cento ovviamente esatto lui è una puttana premium cioè esatto povero cento povero cento ma che povero ma che povero ma che povero ma che povero essere una puttana premium mi conviene esatto ho sconto su 10 password da team speak armese ma te che ne sai no raga venite qua buona te ti ricordi quando trovammo il bug dell'elevator il bug dell'elevator oddio cento io non mi ricordo nemmeno che noi giocammo ad alien swarm figurati com'è com'è non lo so ne so comunque volendo eh dovremmo se ti va eh dovremmo fare delle mappe una mappa custom tipo quindi in quella mappa custom se vuoi magari potrai infiltrarti il problema è che faccio cacare ma che cazzo te frega c'è sta a giocare c'è sta a giocare c'è sta a giocare io c'è sta a giocare l'orex c'è sta a giocare snake vabbè a parte snake ammo tutti schifo no ma l'orex ha deciso di non parlare oh lui è tipo è come rajid no quando c'è una femmina non parla in questo caso c'è snake quindi non parla però mi manda a fuoco la puttanella curami però è vero il fuoco fa male agli alleati il fuoco fa male ragazzi un like per cento che ha scoperto che il fuoco fa male e dai fammi finire la frase il fuoco brucia ma no e pensa che succede quando scopri che fa l'acqua lì so cazzi di tutti ah con l'orex 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 no no è l'orex che è è bravo no e basta e basta ti metto munizioni veramente ma basta eh no no alien swarm installalo no proprio nella libreria non c'è installalo vabbè è gratis eh lo so perché ti manda a fuoco eh perchè è la sua bendita non lo so ti servono per davvero o no? no non è vero e dice che alien swarm è nella mia libreria di steam ma non sta nella libreria di steam che cazzo di schifo veramente non si può ragazzi un dislike per snake che non gli dice dove sta aspetta qui abbiamo mancato un gesù di ok no allora che se ho fatto io ho fatto io ma cosa gli è sparato? è una granata di fuoco ah tu c'entra la telecamera su qualcun altro però vabbè con con l'orex in giro comunque la gente va tu ti giri e la gente va a fuoco cioè oh cazzo ok ora dovete fa tipo last man standing ah last team si spera standing cioè hai messo la torretta in un bel punto stavolta mi sei piaciuto cioè eh io mi metto dietro alla colonna così fa figo eh dicevi 100? quando ti ricordi quando tipo bug ti ricordi qual'era quello che attivavi il l'elevatore perchè non mi ricordo come si dice in italiano è tipo ecco ascensore credo ralentavi il tempo e tu avevi il tempo di uscire dalla piattaforma prima che scendesse tu avevi il tempo di uscire dalla piattaforma prima che scendesse cioè prima che si chiudesse la piattaforma scendesse e iniziasse a scendere si ma lo sai me lo ricordo ma non mi ricordo quale mappa se devo essere onesto mi pare la prima cioè quella più normale la prima non ha ascensori che io ci pensi eh beh quella che penso io sì forse era una mappa custom abbiamo giocato mappe custom noi? no no era una mappa proprio del gioco era tipo tra le nevi però tipo tra le nevi non ci sono mappe? ok no no tutte altre oh non mi ricordo non mi ricordo tra le... oddio tra le nevi in questa campagna non ci sono di mappe no siamo dentro delle strutture non è che tra le nevi tra le nevi mi pare che nevicava però mi pare che era cioè era tipo dentro un laboratorio strano assurdo comunque e ragazzi questo era il quinto video di Alien Swarm lo sai fare l'accento toscano? no però posso fare il pervertito ok ci vediamo alla prossima no